La località di Fabriano, nella provincia di Ancone, è stata colpita da una forte bomba d'acqua nel pomeriggio di sabato 3 giugno. La pioggia intensa, che è caduta in pochi minuti, ha causato problemi alla circolazione stradale, smottamenti e allagamenti. Le zone più colpite si trovano ad attigio. Questo è il secondo temporale violento che colpisce la città della Carata nel giro di 10 giorni.